La banca del lato umano donato che nasce al Policlinico serve per accogliere il latte di mamme che hanno avuto la fortuna di avere un bambino sano, che noi utilizziamo dopo averlo raccolto, pastorizzato e conservato per i bambini più sfortunati che sono quelli che nascono prematuri. I bambini che si giovano del lato umano donato sono i neonati prematuri, soprattutto quelli altamente pretermine, quelli che nascono con un peso inferiore a 1500 grammi. Nel nostro ospedale sono circa 150 all'anno. Questi neonati sono particolarmente delicati e il latte materno donato che abbiamo intenzione di dare loro riduce l'incidenza delle infezioni e anche di patologie intestinali che possono essere molto gravi. Le mamme donano il loro latte tirandolo fuori a domicilio, quindi diamo alle mamme un tiralatte, tutto il materiale per raccoglierlo. C'è anche un sistema a domicilio di raccolta del latte. Il latte così raccolto arriverà nella nostra banca, qui verrà pastorizzato con un pastorizzatore all'avanguardia, viene misurata la quantità di proteine, di lipidi e di carboidrati che ci sono all'interno del latte e poi il latte così preparato verrà somministrato ai neonati prematuri nel loro primo mese di vita. Il latte che viene dato a questi bambini sarà un latte molto controllato, le mamme verranno controllate prima della donazione, verrà controllato il contenuto del latte che verrà dato a questi bambini e ci sarà anche un sistema di tracciamento del latte per appunto avere un continuum di quello che facciamo. Non c'è nessuna controindicazione alla donazione del latte. Una volta che sono stati fatti gli esami alla mamma, il latte che viene donato non è latte che viene tolto al proprio bambino, ma è latte in più che andrebbe sprecato e che invece venendo appunto raccolto dalle banche permetterà di salvare delle vite. Invito tutte le mamme alla donazione un atto di altruismo che permetterà anche ai bambini che nascono prematuri che sono più sfortunati di avere i vantaggi dell'allattamento materno.